The Borderline, Matteo Di Pietro, ecco perché non andrà in carcere. La vicenda di Matteo Di Pietro, lo youtuber coinvolto in un tragico incidente stradale che ha causato la morte del piccolo Manuel, ha suscitato notevole attenzione e dibattito. Di Pietro è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale pluriaggravato, dopo aver patteggiato la pena proposta dalla difesa e accettata dal PM. La determinazione della pena per Di Pietro si è basata su diversi fattori chiave, tra cui le attenuanti generiche e la scelta del rito di patteggiamento. La pena base per l'accusa di omicidio stradale era di 9 anni e 3 mesi. Tuttavia, Di Pietro ha beneficiato di uno sconto sulla pena grazie all'applicazione delle attenuanti generiche, riconosciutegli per aver prestato soccorso immediatamente dopo l'incidente. Poi per aver intrapreso un percorso di riabilitazione, per aver ammesso la propria colpevolezza e mostrato pentimento, e per il suo impegno a lavorare su progetti di sicurezza stradale in futuro. Queste azioni hanno contribuito a una riduzione della pena di un terzo rispetto alla base. Oltre alle attenuanti, sono state considerate le aggravanti, che hanno influito sull'aumento della pena, ma la scelta del rito di patteggiamento ha ulteriormente ridotto la condanna finale, permettendo a Di Pietro di evitare la detenzione in carcere. Infatti, avendo già trascorso circa sei mesi agli arresti domiciliari, la condanna residua inferiore ai quattro anni gli consente di non scontare la pena in carcere. La vicenda ha toccato profondamente l'opinione pubblica, evidenziando la tragedia vissuta dalla famiglia della vittima, e sollevando questioni sulla giustizia e sulla sicurezza stradale. La sentenza, pur nel rispetto delle procedure legali, lascia un senso di risolto per la perdita irreparabile del piccolo Manuel, e mette in luce la necessità di continuare a lavorare per prevenire simili incidenti in futuro, rafforzando la consapevolezza e le misure di sicurezza stradale. La dinamica della sentenza e il calcolo della pena per Di Pietro riflettono la complessità del sistema giudiziario nel bilanciare la gravità del reato. Le circostanze attenuanti e l'impatto sulla vita delle persone coinvolte. Resta l'importanza di ricordare le vittime e di promuovere un cambiamento culturale che ponga la sicurezza stradale al centro dell'attenzione collettiva. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Grazie!